Gioca su sisalpoker.it, real poker, real fun Oggi ero partito con 60.000 chips, al primo break ho chiuso 68, al secondo break credo di aver chiuso intorno alle 80 Poi a cena sono andato con circa 105.000 chips All'inizio ero in un tavolo molto buono, non c'erano giocatori pericolosi, erano tutti abbastanza sul direttellati Scusate il termine, avevano dei leak dal punto di vista dei tell, ne avevano incollati un paio, ho preso diversi vantaggi Il secondo tavolo non era un gran che anzi, era sicuramente molto peggio Però per i primi, fino alla sesta ora, settima ora, non ho avuto grossi problemi, non ho avuto grandi scontri Dopodiché, una volta la solita 105.000 dopo cena, non ho vinto più dei piatti, sono sceso addirittura fino a 40.000 Da lì poi per fortuna ho fatto un double up con Jack Jack contro 5-5 e di lì a poco è finita la giornata Va bene, anche l'anno scorso ho chiuso 80.000 chips, il giorno 3 poi non ho fatto soldi Quest'anno ci riproviamo, purtroppo dovrò giocare anche il D3, si sa già che non si andrà a soldi Quindi dovremo giocare un'altra giornata vedendo quel lumicino ancora che sta lontano, che sarebbero in demoni Vediamo come andrà Gioca su sisalpoker.it, Real Poker, Real Fun